Io ho saputo che qualcuno sia anche offerto per fare l'attore in un suo film. Guarda, ho portato una chicca, ho portato una chicca, perché di solito è il regista che fa il provino all'attore per vedere se va bene. Mi era venuto in mente uno che ho detto, questo secondo me recita benissimo. E gli ho proposto di recitare nel Pesce innamorato. Lui è stato l'unico che ha detto, eh no, io voglio fare il provino. Ha detto, ma io ti piglio, eh no, dice, io voglio fare il provino, perché voglio capire se io sono bravo. E ha fatto il provino. Ce lo vediamo? Lo vediamo. Vediamo. Faggi, pioppi, castagni e abeti. Faggi, pioppi, castagni e abeti. Prima di fare questo vestire facevo che io farei ieri. E' un po' più grande del mondo, no? Sicuramente. Avevo una bottega con il mio cognato. L'abbia tantissima. Lui era passore di corse dei cani. Investivo in un campione, 40 milioni su questo. Diceva sempre. Avevo visto la corse dei cani. Avevo conosciuto Vasco Rossi alla prima di Fuochi d'Artificio e era nata anche una simpatia. Dopodiché mi dico, ma tu devi fare l'attore, perché guarda, che chi sa cantare è intonato. La recitazione è solamente un fatto di intonazione. Gli attori cani, cioè quelli che recitano male, è perché non sono intonati. Sono stonati in questo modo. E lui ha fatto il provino. Secondo me, a parte sembrava improvvisamente un film di Pupiavati, perché è lui che parla in emiliano. E poi, dopodiché, a cinque giorni dalle riprese, è sparito. Ho detto, in puro stile Vasco Rossi, è sparito, si è evaporizzato.